Oggi siamo in piazza accanto agli uomini e alle donne che portano una divisa, che tutti i giorni difendono la nostra città, a cui questo governo, il governo Renzi e Alfano, sta regalando una mancetta di 9 euro pensando di aver risolto, aver ridato dignità a chi tutto il giorno, mettendo a repentaglio la propria vita, ci difende. Io penso ai tanti agenti, ai tanti carabinieri, ai vigili del fuoco e alla polizia penitenziaria che lavorano ed operano a Roma. A Roma c'è una situazione di insicurezza generale, c'è una situazione di illegalità, di droga, di criminalità, di immigrazione clandestina, oltre ogni limite di sopportazione. E cosa fa questo governo? Cosa fa il Comune di Roma? Cosa fa la Regione Lazio? Tutto tranne che dare dignità a chi oggi tutela il nostro territorio e ci difende.